Ho perso un'altra occasione buona stasera, è andata a casa con il negro la troia, mi son distratto un attimo, colpa di Alfredo e con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciuppare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido, lo uccido. E lei invece non ha perso tempo, ha preso subito la palla al balzo, l'ho vista uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole, tutte le sere mi accompagna a casa una di aersa, chissà che cosa gli racconta, per me è la macchina che c'ha che conta. E quella strozza non sei neanche preoccupata, di dirmi almeno qualche cosa che so una scusa, c'era già dimenticata, di quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera, abito fuori Modena, Modena, ti porterei anche in America, ho conferato la macchina apposta e mi ero già buttato la testa, avevo fatto tutti i miei progetti, non la portavo mica a casa, e se la sposavo non pensavo a casa, e sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.